Buongiorno, buongiorno, ci siamo, ci siamo Senti com'è fulla L'ho schiso Ah, com'è schisa Vai, vai, schisa se Sabato Sta pieno, è sabato No, vabbè Sta pieno Che è una figa, chi è? Chi è? Chi è? Quando viene la figa impazzisce Chi è? Chi è? C'è speschi sfigas Sta pieno, sta scrindrasschim fanken Fè 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 Oh, ma buongiorno Eh? Buongiorno Oh Buongiorno Capriole sul letto rifatto Ma va via te sciacco di coglione Fermate Dio, cao Ah Cao Non ce l'hai voluto a sguasare tutto il letto? Volevo fare una capriolina Testa di cazzo No Che fa uno? Oh, te la leva di coglione Ah Perché sei nervosino? Eh, perché sì Perché ti prude il culino? Sì Lo grattamo Oh Fausti No, viene a fangire tu sulla macchina Viencela Sì Oh, viencela Ciao Dai Montate qui e fa parire Ragazzi, iscrivetevi al mio canale YouTube Fate swipe E vediamo se riusciamo oggi con il video Ecco, l'impartenza Ah Ti vuole o no? Ti vuole? Oh Ma da me mi vuole nessuno Da me Ma vuole Gesù Cristo Abbiamo un ospite specialissimo Specialissimo Eccolo Ecco Proviamo questa Abarth Supersonica Vediamo un po' Unica al mondo Come sta andando questo giro? No Mi sto cacando addosso Già si sente un orino Una puzza Si sente Questo Dio Questa è una macchina Formula 1 No ragazzi Questa non è una macchina Questa è un aeroplano Questa è un mic Ma io la devo Oh ragazzi Questa è del buono sul serio Io già ho portato il pannolone Davvero? Ma che scherzi Siamo presto Com'è andata? Malissimo Adesso mi vuole levar il pannolone Che me l'ho fatto addosso Per carità Guardate con chi sono Eccola La ziggianna Ziggianna Eh? Quanto sei bella C'è anche Drillo Il coccodrillo Ho scelto di mettere questi fiori I sempre vivi Perché con queste temperature Sotto consiglio anche del Un grande amico fioraio Anche mio vicino di casa che saluto Una grande persona Resistono un pochino di più Niente Domani non potevo venire Quindi sono venuto Oggi Comunque ragazzi Per essere amati Bisogna amare Quindi Lasciate stare I rancori Le invidie Portano nessuno a parte Proprio zero 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 Sempre dritti E ricordatevi Sta cosa Adesso non ve la voglio far più lunga Per i tanti Non voglio nemmeno parlare La gente che rosica Quindi Me ne frega niente Però ricordatelo Ora Il bacino La ziganna Da parte anche di tutti voi Perché È bello anche ricordarla Una grandissima persona E Ora Ci andiamo a divertire però Tortellini ritortellinati Con doppio tortellino Tortelleggiante Che dieta è? Che dieta è? Quella che mi fai cazzo E dopo? E dopo? Andrea E la gioppa in culo No No Mettetevi a mangiare qua Qua Con quello metto là Che cucina questa donna qua Fate swipe Andate sul mio store E Estrarrò Un fortunato di voi Swipe Coccodrilli Appena è uscito Il video Del primo giro in macchina Sull'Abarth Quindi Andate a vederlo Fate swipe Tutti Su Youtube C'è? Eh? 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 Come? chi è contento che viene al mare io sono andreoni il grande ok pronto vai ciao io sono andreoni il grande eccolo il grande che grande amore com'è amore mio amore 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 questa sta sempre al bagno ora adesso facciamo un gioco come fa leone non proprio che c'è dopo andiamo a fangiro eh vabbè grazie dei grandi voi si si lo famo lo famo capito macchina che diverte e fa divertire è questo ragazzi è il bello è questo cioè vedere i bambini vuoi le fangirette andreoni super carico io si campa così ragazzi vai il campanello come chi è il lumacone coccodrilli eh ecco lì eh fa com'è fa tutto bene grandi mi avete inseguito da dove dal sombrero dal sombrero vabbè grandissimo siamo a tempo a mettere il ferma pennello perché è importantissimo mauro della stella civizia e andrew sei contento ci fa a me edita tutti i video su youtube Elia ciao ragazzi grande grandissimo numero uno coccodrillo numero uno grande Elia ciao se viene da fare qualche video contattatelo il super tuffo all'andreone vai tocca rifallo andrew bisogna rifallo e andrew grazie eh vai di che sa mmm sare vino eh ma sta pieno civizia mauro nessuno mai che ci ha portato andrew la frittorina come? la frittorina come? la frittorina come? e le muschettine con il tonno con che? tonno momento migliore a volte basta la semplicità mare guardate che carino qua sorella amica sorella palme mare mangiamo gli arrosticini fiore pinza i veri cantanti che mangiano che mangiano gli arrosticini se se da cantante se mangiano anche tu l'arrosticino se se fammi vedere come lo mangi se se dai mangialo 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 riprendi la macchina mi sorella la riprendo io beh cioè non c'entro è assurdo che vai la sembra che stai sopra a s z accendi l'altro sensore dai è male tra tu e la macchina date più ansia Grazie.